Presso il campo sportivo di Cicerale avrà luogo la giornata del crescere sano, alimentazione e movimento, organizzata dall'Istituto Comprensivo Pietro Visconti, scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado di Cicerale, Prignano e Oliostro Cilento. Si tratta della manifestazione finale riguardante quattro progetti finanziati dai fondi europei PON 2007-2013. Avrà luogo inoltre la premiazione del concorso indetto dalla Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani di Segno Il Tuo Futuro. Il primo dei quattro progetti, Crescere Felix, realizzato in collaborazione con i diversi enti, fra cui l'ASL Salerno, mira a promuovere e consolidare stili di vita e di alimentazione salutari attraverso un recupero delle abitudini alimentari mediterranee in tutta la fascia dell'infanzia e dell'adolescenza sull'intero territorio della regione Campania. Gli altri due progetti che ugualmente vanno a braccetto sono i giochi sportivi studenteschi e l'alfabetizzazione motoria che mirano a promuovere la pratica sportiva come fattore di benessere individuale, l'acquisizione di competenze motorie e uno stile di vita attivo. Il diversano si acquisisce tramite la conoscenza del proprio corpo e del mondo attorno a sé e si comincia fin da piccoli crescendo.